Musica Bella a tutti ragazzi, qui Wolf Torniamo sempre a tutti su Battlefield 3 per un altro commentary con un altro youtuber Adesso se si vuole presentare Certamente, ciao a tutti, io sono TheFPSOssult E oggi sono qui per un duel con Wolf Ok, inizia a diriggerti su Ali, c'è poi Si Si, che non c'era nessuno C'è un bel elicotterino che gira, bello tranquillo Già, speriamo che riescano a Ragazzi adesso non sappiamo cosa succederà Visto che tutti e due da 40 anni che non giochiamo a Battlefield 3 Visto che io sono stato impegnato con Battlefield 4 Lui con Battlefield 4 però su PC Ok, non è una grande idea questa di salire le scale con il carro armato No, direi di no Anche perché, per chi non sapesse Assault è un brutto traditore Perché non so com'è che abbia fatto a tradire la Sony Che l'ha sempre aiutato Guarda che io c'è una rampa A cosa ti riferisci? Adela, ti sono passato su PC? Eh, allora si deve orgogliarti Però ti dico la verità, ah, ci sparano, ci sparano Ti vero, ti dico la verità A pace, a pace No, no Che poi ho un avuto, lo stessa cosa, pace, a poco, la stessa cosa Allora, adesso, dopo questo Epic Sale suggerirei di... Andare su B? No, lo aspetta C'è un altro cavo, però con il doio adesso Va bene Tanto noi abbiamo lo stesso Però ti dicevo Però ci gioco ancora parecchie la Playstation Nonostante... Ma sì, anche per chi non lo sapesse Ah no, ah già è vero Mi ricordo il comando di Battlefield 4 Chi non sapesse È uno dei pochi che ha ammesso che gli piace Battle of Duty Ghost Eh sì, ebbene sì Nonostante io sia... Cioè nel senso Abbia abbastanza esperienza con Call of Duty Perché ho cominciato sulla Playstation 2 Poi anche sulla 3 Poi nel Modern Warfare 2 Dove sti vergognati? Eh, Modern Warfare 2 mi manca Ho cominciato... Ho Modern Warfare 1 Il terzo E Black Ops Però no, Call of Duty Poi diciamo che dopo Mv3 Che mi aveva abbastanza deluso A livello di multiplayer Avevo deciso di... Diciamo di chiuderla lì con i Call of Duty Vabbè, c'è tanto modo Modern Warfare 3 Penso che abbia deluso tutti in un modo Nell'altro Eh, insomma... Perché tutti qua dire Dai, ritorno a Modern Warfare E tutto... No Aspetta, no, no Aspetta Caro, caro, caro Occhio, 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 occhio Dov'è? Dov'è? Dietro? Ah, dietro, dietro Occhio, 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 occhio Spara, spara, spara Sì, sì, sì Dai, ricarica Esplode, 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 esplode È rosso, è rosso È sceso, occhio, occhio, è sceso Aspetta, aspetta, aspetta Ma dov'è, dov'è? È qua Dov'è, 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 dov'è C'è fregato il carro No È stato quello Dovevo scendere io, non te No, aspetta Risalgo sul carro io Ma non muore Non muore No, ragazzi Questa carica La mettiamo Assolutamente Oggio Essere immortale Perché Ah, c'era dietro Quello MT45 No Fail, 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 fail No, non ci credo Non ci credo Poi, sono saliti sul carro Non so cosa ho sparato Se è un fumogeno Un'aggranata Non ho niente Allora, come avete penso potuto vedere C'è proprio Circo Non ci ricordiamo neanche i comandi No, perché è come te diverso, cioè Allora, aspetta Da come la vedo io Batti e ti si sta un po' troppo condizzando C'è troppa gente che E' abituato a giocare a Call of Duty Praticamente nessuno gioca più di squadra Allora, aspetta Intanto rianimiamo questo tizio Facciamo un po' di Fire Squad Team Come si dice, aspetta Oh Teamwork Eh, perfetto Quella gente che spunta dietro in contagio Eh, vabbè, a 91 The Return proprio Che è un'arma che è ritornata Che vado sul 4 C'è un'arma C'è un'arma che ho fatto due cisioni Ma fa niente Dove ne andiamo su A? Eh, cerchiamo di difendere in qualche modo Come penso, molti di voi avranno quindi notato Stiamo facendo praticamente schifo Non abbiamo ancora fatto una kill, praticamente 9 o 2 Ah, ne ha fatto due kill, bravo Ah, beh, è stato come mai Non è mai stato capace di aiutare Ma che sta un tizio, no? Che cacchia Ah, no, è un alleato Eh, copro e mi metto il riparo Sì Aspetta Arrivano Sono in due O forse di più Non lo so Aspetta Mamma Aspetta come? non so, allora sai che c'è il selettore di fuoco che ti permette di scegliere se sia semiautomatica o no ah si 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 ecco quando li gira diventasita solo in semiautomatica ma dai? dove non è mai capitato? non so, a me continua a capitare ci sarò giocato chissà quanti uccisioni per colpa di questo bug e poi non si sa se sono io che sono stupido se il controller c'è qualche problema perchè va bene che il mio controller qua della PS3 ormai è andato su model warfare 3 quindi su tutti i giochi ormai fa quello un po' quello che vuole lui vediamo se riusciamo a prendere C con una manovra tattica cioè tutti sull'obiettivo esatto avanti a caso e vabbè con questa manovra qua tedesca ha quasi vinto la guerra è vero si ah come va tutto bene si diciamo che siamo poco poco camperati può anche questo qua metto ok scamperati ok ce n'è uno qua davanti c'è uno qua davanti aspetta occhio eh domanda ma esiste la parola Fred ci sei? scamperati mamma mia vieni a rianimarmi eh sono morto anch'io ma che cavolo no perchè qua pente io ho massato uno stavo ricaricando e non so se quello lì stava camperando oppure sponiamo ancora su civa sperando che allora con quei due lì non mi ha col cavolo vecchio a 91 non dovrebbe esserci più nessuno allora allora aspetta cerchiamo di andare su D senza farci montare senza è buttato col paracaduto vi sembra sicura sicuramente arriveranno da D infatti ne vedo già un paio che corrono ma dove aspetta io sono per terra eh esatto sono davanti a te alle tue ore sta spunta adesso da dietro la roccia e dalla cappella ok ce l'ho ce l'ho cavolo mi sembra di essere tornato ai tempi di black oaks in vietnam eh davvero queste le 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 i fiumi le cose le le in napal in napal ti ho ok quale è morto no cavoli c'è l'avoc sei su D? si si ok allora su D è un un casino perchè c'è un avoc che sta rompendo e anche tanto allora allora su D quando dovrebbe quando dovrebbe stiamo vincendo bene stiamo facendo un punteggio cioè io sto facendo un punteggio un po' di me ok va bene sono subbatte il film non mi devo buttare non mi devo buttare vieni qua dammi il kit medico aspetta aspetta che sono un po' che ho sette di salute ho rispondato anche io allora aspetta 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 ok 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 eccomi 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 proprio team squad alla massima potenza serverebbe un m60 per coperti bene ma purtroppo non c'erò e ci arrangiamo come si può qua intanto esploso tutto vai corri corri amico caro coprici fai quello che vuoi fai quello che vuoi ma coprici lo so intanto che occhio dietro caro occhio dietro scusate allora aspetta cavoli io però sto per finire le munizioni della 91 eh le munizioni non te le posso dare mi spiace aspetta ci dovrebbe essere un supporto intanto qua abbiamo abbastanza potremmo quasi andare a fare spawn spawn kill troppo si la batte troppo si la batte troppo si la batte troppo si la batte che serve su batte si beh spawn kill nel senso ma perchè qua comunque non mi sembra che ce la fai a fare spawn kill perchè mi son messo la G18 che che era in culo ma sono tutti qua sono tutti qua eh sono in 2 o 3 almeno no vabbè son morto vabbè che poi in realtà mi sono messo suicidato perchè avevo finito le munizioni ma fa niente allora aspetta aspetta ho fatto non riesco a reanimare vabbè aspetta no allora no vabbè fa niente cavo c'è un cavo calmo no è nostro uno è nostro il suo nome c'è l'altro c'è l'amico no non è amico no sono uno e uno io sto quando facciamo no tranquillo il cavo nemico ha avuto qualche piccolissimo problema ok con incidente di percorso non c'è qualche veicolo non c'è qualche veicolo c'è una jeep lima aspetta aspetta c'è l'amico amistate no 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 vai girato giù assistenza uccisione g53 che la qualunque ho capito io sarebbe un fucile fatto dalla hacker coche che per chi non lo sapesse ha prodotto un mp45 un mp5 il g36 praticamente metà laser le odio io odio i laser comunque ragazzi metà delle armi che si vede nei videogiochi è stata prodotta dalla hacker coche quindi non potete non conoscerla sicuramente assal non lo conosceva no no la conoscevo la H e K la cioè addirittura su medal of honor l'ultimo che è uscito c'era proprio il nome della H cioè c'è proprio un'arma che si chiamava H K e vabbè c'è la H K M 416 aspetta andiamo su B tanto si bella stiamo vincendo eh non proprio l'efficio sono strano essere tornati su playstation 3 con 24 giocatori con 250 ticket addirittura una era 150 qua ma che cavolo cioè praticamente è un po' come giocare a calo flutti alla fine e per quanto riguarda la velocità si anche perchè quali stiamo allora attenzione adesso perchè io sono successo da solo l'ho già visto un nemico eh aspetta adesso aiuto qua un carista poi arrivo ecco perfetto mi hai visto anche quella ma quanto sono mamma mia e hanno in 40.000 subito male 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 c'è c'era B c'era la riunione dei comunisti con i C4 anche torniamo su B sperando di poterci schiacciare si allora aspetta tu dove sei? eh ho sbagliato sono spionato su D aspetta che mi avvicino aspetta allora adesso qua devo decidere aspetta provo ad andare su A che c'è un carro oppure poi provo a spostarmi su B c'è il capo squadra sono io ma io non ho parlato e c'è la c'è la gente che scende giù dal coso allora allora calma 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 vabbè qua ci sono gli appasci ci passano sopra non servono a niente sono utili qui erano addirittura il 3 che scendeva si è ma dove aspetta che è su bravo si sta riuscendo dalla collina di C verso D praticamente collina di C verso D aspetta allora aspetta adesso io sono mi sto avvicinando a C quindi prova a bloccarli ok D la stanno prendendo paura che aspetta aspetta io sto andando a coprire D eh perchè sperando che non ci siano carri ok allora senti adesso io sono su C prendiamo C e poi ti veniamo a dare una mano ok ok una l'ho fatto fuori c'era un supporto che non era tanto sento che voleva distruggere il nostro povero carlo ah è ormai tanto andata C no ci ce l'abbiamo C C e D volevo dire a parte che la partita non mi sembra abbastanza vinta praticamente stiamo infilando il coltello nella piaga per cercare di bloccarli per cercare di bloccarli su qua giù dei shock come cavolo si chiama è rientrato aspetta ce n'è uno si dovrebbe è qua 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 no no i marker sono i due sono i due sono i due preso cavolo la G18 quanto ci vedo non aveva più vita praticamente ok a meno che c'è un rianimatore rianimatore guarda perchè esistono gli animatori medici assalto supporto tutto quello che vuoi ok comunque la mia impressione o la musica di bate e fita uguale a quella di bate e f4 si può essere no è uguale è uguale quindi adesso non so chiudiamo qua o facciamo l'altro presto di partita eh ma si direi di chiuderla qua dai intanto facciamo una cosa un pochino più più contatto penso che un quanto è avvenuto penso che più di 10 minuti si 15 minuti no va bene visto che contando la connessione comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto un vino un pochettino più serio del solito e più tattico aspetto alla nostra media comunque adesso io lascio salutarti a FPS Assault ciao ragazzi mi raccomando iscrivetevi lasciate mi piace al mio amico Wolf e magari passate anche sul mio canale ecco si però comunque adesso ragazzi comunque ringrazio FPS Assault spero che riusciremo a fare qualche altro video poi comunque vi terremo informati e quindi bella a tutti da Wolf e a un prossimo video